Cari ragazzuoli, un vlog al volo, per dire che domani uscirà il nuovo video a saluto a show numero 2, ma non è questo il motivo del video, ma il motivo è perché in questo nuovo video ci sarà qualcosa di nuovo, una collaborazione con un altro canale di Youtube, un canale sconosciutissimo, lui ha 300 iscritti, 320-330, quindi come vi vedete le mie collaborazioni non sono sempre mirate, non sono quasi fatte, non sono mirate a qualcosa di più, ma sono delle collaborazioni con un canale che merita, e siccome merita mi è fatto molto piacere fare questa collaborazione, anzi mi fa molto piacere se vi iscriverete al suo canale, mettetevi nel profilo che vi mando io, altrimenti magari non sarà mai, ed è una persona, un utente, skype walkershow, un nome facile da ricordare, il taci sua, e lui fa delle creazioni di grafica, ma di animazione, molto bella, mi piacciono molto, e per me, solo e esclusivamente per me, per il mio canale, ha creato un pulcinella, un pupazzo pulcinella che farà parte di questi miei video, che mi accompagnerà attraverso questo nuovo modo di fare video che sto cercando di portare avanti, molto bravo, quindi molto spesso ci sono persone molto brave, che rimangono nell'oblio di Youtube, come sempre dico, in questo caso sono contento di averne trovato uno veramente che merita, ce ne sono tantissimi, e dovete vedere un po' il suo canale, le sue creazioni, poi adesso partirà anche un buon progetto per lui, sempre con la grafica, con i pupazzi, con queste cose, sono video un po' particolari, anche già quelli che è sul canale sono un po' particolari, è un vero artista, secondo me, vi lascio con una piccola intonazione, io sto fermo qua, apparirà qualcuno, qualche rompicoglioni, da destra alla sinistra, che sarà proprio questo rompicoglioni che farà parte del mio programma, mi raccomando, se volete, iscrivetevi, merita, ma comunque, ovviamente ognuno nel libro vi farà ciò che pensa, nel caso vi iscrivete, non vi ricordate nel suo profilo, se guardate che qua mi mandava saluta, insomma, quindi ho fatto il mio dovere, diteglielo, merita, merita molto, quindi cerchiamo, approfitto, proprio per dire, se conoscete i canali, che insomma, hanno poco, insomma, poco o niente, mettete un link qui sotto al canale sotto al video, che li vediamo, insomma, possiamo parlare, usiamo sto canale anche per, insomma, per aiutare un po' chi merita, che ci sono tanti, alla prossima, vi lascio ancora sto zitto un attimo, ecco che appare, apparirà, ecco qua, pazza lui, ma si antipatica, questo è colui che mi accompagnerà, sto raffio della mignotta, alla prossima.